Le foto più assurde che vedrai oggi e se ho ragione dovrai commentare sotto tutti i video che vedrai oggi Hai acciaccato, diffondiamo questo verbo Questo succede quando ami la bronzatura ma sei un tipo da città Amore scattami una bella foto quando mi trovo in piscina Questo ragazzo è allergico a tutto tranne che hai i video di Nathan FG, seguimi Questo è un mondo geniale per fare i puzzle senza perdere troppo tempo Diciamo che questa non è proprio una buona pubblicità Qui sarei curioso di scoprire dove si trova tutto il resto Di persone amanti delle patatine fritte ne ho conosciute tante in vita mia ma nessuno può battere loro Qualcosa qui mi dice che la gravidanza è stata alquanto inaspettata Ecco cosa succede quando spezzi il cuore a un operatore ecologico Su questa foto ho tante domande Ma soprattutto perché c'è un gatto appollaiato su di lui? Anche i cinghiali vogliono il loro relax Se tornaste a casa con queste fragole che cosa fareste? Eh chiedo scusa prendo il prossimo volo se è possibile Per 100 euro dormiresti una notte in questa camera da letto? Ma a me che faccia da cavallo Scusi potrebbe togliermi la coda dalla faccia?